Nato da una leggenda che parla d'amore, Cameo Italiano racchiude in sé tutto l'indiscutibile fascino dell'imperfezione e la bellezza dell'unicità. Sono molto felice di essere oggi con voi qui a Cameo Italiano, anzi nel negozio Cameo Italiano insieme a Deborah. Ciao Robby. Ciao Deborah, perché vogliamo raccontare una storia bellissima, una storia fatta di passione, di amore, di rispetto delle tradizioni. Una storia antica che vede intronciarsi tre generazioni intorno al meraviglioso e unico Cameo su conchiglia. Meraviglioso. Un'eccellenza italiana. Made in Italy 100%. E anche tutto ecologico, perché viene realizzato a mano, senza nessuno strumento che consumi energia, per cui è tutto incredibilmente ecologico. E diciamo anche che le conchiglie vengono prese alla fine della loro esistenza. Sicuramente. Perché c'è anche il rispetto della conchiglia. Cosa ci mostri? Questa particolarissima collana, questa collana sempre in argento 925 con una placatura di 18 carati in oro giallo. E abbiamo innanzitutto un bellissimo volto con un fondo corniola, perché la conchiglia, questa conchiglia corniola, ha questa peculiarità di avere il fondo chiaro, che è molto bello e piace moltissimo ai miei clienti. Mentre invece poi le altre sono quelle con il fondo scuro, abbiamo due tipi di conchiglie. Quelle con il fondo scuro sono le conchiglie Cassius. Ah, ecco. Sì, sono due tipi di conchiglie diverse. Mi piace l'accostamento invece con tutte queste frange, mi viene da chiamarle. Queste frange sono deliziose, sono un quarzo nero e rendono chiaramente molto più frizzante anche nell'indosso. Sì, è un campo etnico se vogliamo dire, perché sai il motivo delle frange, ci ricorda una certa moda, gipsy style. È un campo etnico, sì, è vero, è vero. E poi tra l'altro è un doppio utilizzo. Quindi l'immagino con un gonnellone. Anche, certo. Un bel gonnellone, addirittura con la sfadriglia, oppure il sandalo etnico di cuoio. Assolutamente, assolutamente. Ci possiamo davvero divertire. Visto che parliamo di Torre del Greco, anche quella moda un po' positano, tutta bianca. Moda mare, moda mare, positano. Siamo comunque da quelle parti, insomma, del partenopeo. E come si indossa? Questo si può indossare in due modi. Allora, o lungo, perfetto, così, o altrimenti in versione choker, che è veramente molto, molto divertente. Ah, vedi, lo vai ad agganciare. Lo vado ad agganciare. Chiaramente avremo, ecco, non si può regolare, quindi può essere sia indossato corto che lungo. E questo doppio utilizzo per una donna, come noi sappiamo, è molto importante. Mettiamo una canottierina semplice di seta e siamo fantastiche, resistibili, anche molto sexy. Grazie Deborah. Grazie.